Questo gol di Iovanovic in pieno recupero condanna un Matera largamente rimaneggiato e regala una boccata d'aria fresca al Biceglie, reduce da tre sconfitte consecutive. Non poteva esserci modo migliore per suggellare la pace tra Patron, Canonico e i tifosi, che quasi urlano al gol dopo appena sei minuti quando Azzi, servito da Partipilo, va via a Matera, salvo poi sparacchiare sull'esterno della rete. Il team di Zavettieri ci crede e al quarantesimo va a segno con lo stesso Azzi, ma l'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente. Nella ripresa è invece la squadra allenata da Oteri ad aprire le danze, con un tentativo fuori misura di De Falco dalla distanza. Sul fronte opposto, al dodicesimo, De Franco stende Partipilo all'ingresso in area, Volpi di Arezzo concede il penalty che Paolo Azzi trasforma scegliendo la soluzione potente e centrale. Il vantaggio bicegliese però dura poco più di un quarto d'ora, tanto basta a Casoli per pareggiare i conti, sfruttando l'assist di Urso e beffando Crispino in uscita. I nerazzurri non accettano il verdetto e neanche due minuti dopo sembrano già ribaltarlo col nuovo entrato Jovanovic che ribadisce in rete, un tiro di Azzi respinto da Golubovic. Niente da fare invece, è ancora fuori gioco. Al trentottesimo l'ispirato Azzi ci prova dal limite ma trova la pronta opposizione dell'estremo materano. A seguire è la volta di Lugo Martinez su punizione, Golubovic dice di no anche a lui. Si arriva così al quarantasettesimo, il minuto che decide la gara. Spiovente da fermo di Verdoliak, sponda aerea di Markic e girata vincente di Jovanovic che realizza la sua terza marcatura in campionato, sesta stagionale, mettendo a tacere chi ne aveva fischiato l'ingresso in campo. Al Matera non resta che raccogliere i cocci e prepararsi per la difficile sfida interna col Trapani. Il biceglie andrà invece ad Andrea col morale risollevato.